Avola, cocaina e marijuana nell'operazione di droga della squadra mobile e commissariato. Arrestato 39 anni e segnalati due assuntori. Droga ad Avola nell'ambito dell'azione di contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti condotta dagli uffici operativi della questura di Siracusa e dai commissariati della provincia. Poliziotte della squadra mobile e del commissariato di Avola nella serata di ieri hanno arrestato Salvatore Logiudice, avolese di 39 anni, già noto alle forze di polizia per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Gli investigatori della Polizia di Stato, a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria, hanno effettuato a casa di Logiudice una perquisizione domiciliare che ha consentito di bloccare l'arrestato mentre gettava nel water quattro dosi di cocaina e nove di marijuana. All'interno dell'abitazione venivano rinvenute alcuni grinder utilizzati per triturare lo stupefacente, altre dosi di marijuana e di hashish, una macchinetta a contasoldi, un bilancino di precisione, un coltello intriso di droga, vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente, 120 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Inoltre, a casa dell'arrestato sono stati sorpresi due giovani, di cui un minore, mentre consumavano della sostanza stupefacente e sono stati pertanto segnalati all'autorità amministrativa competente. Infine, nella stessa abitazione sono stati trovati numerosi monitor collegati ad alcune telecamere che sorvegliavano le vie circostanti a protezione dell'attività di spaccio. Nel prosieguo dei controlli, agenti del commissariato di Aula, insieme al personale del reparto prevenzione crimine di Catania, hanno identificato altre 26 persone, controllato 24 mezzi, elevato una sanzione amministrativa e ritirato una patente.